No, c'è Dittuino. Guarda che sei solo! Tu lo sai, io sono sulle cose evidenti, poi difendo sempre. Manu torna che è sopra, torna! È come se siete miei dipendenti, quindi vi devo sempre difendere, però se c'è un dipendente e dico che mi fa perdere milioni di euro è normale, devo pensare alla sostituzione. Giusto? 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 Ehi! 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 Stamparo! No, no, no! Cosa senti qui? Stoppala! 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 Ma cosa ci va a dare? No, no, no! Ma quando puoi rientrare, Sandro? Filippo, questo è tuo zio Massimo veloce Stai attento, mi raccomando Oh, Filippo Landino Sei con tuo zio Massimo in macchina Ma chi è venuto nuovo con loro? Che non è venuto più, scusami Chi c'era nuovo con lui? Che non è venuto più Perché io me la so, me la so, ho visto la partita Ah Eh, si chiama Zigliara Zigliara con il Iaro Zigliara con il Iaro, ho detto nel video Il gol di Zigliara, 2 a 1 simpaticese, scusatemi Ma mi distraggono Bravo Manu Grazie Tira, tira, rinni Vai, presto Vai, presto Ti fico No Vai, ti fico Vai, ti fico Vai, l'ammazzo, l'ammazzo Non mi puoi Basta, c'era la giusta La giusta Non mi puoi Vai C'è Inoltre Ora Non me lo fischi Ora Calm Indietro, subito Ieri non sei venuto a vederti un partito non è che dovremmo vedere vediamo il posto non c'è Ale, vai, la dagliela subito non c'è più aspetta ora lo faccio vedere riprenda con questa e non vuole avere solo loro questo qua il suo filo c'è in mano congelata non lo so è entrato? no non ci vedo niente chi menti mi ha detto che praticamente qua c'è una specie di tubicino che fa passare un liquido naturalmente che serve tipo da lubrificante per l'articolazione e sicuramente ce l'avrò infiammato e quindi ostruisce il passaggio del liquido e niente si può fare mi prendo cortisone pure niente però non mi dà fastidio c'è l'unica cosa mi sento veramente a rinocchia la mano no no ma io proprio appena metto il braccio così e ho un dolore che mi tira fino al gomito qua ti fa malzze è più continente si è caduto su internet cos'è? è più continente no ce l'ha a Filippo glielo ho dato a lui come ti saluto qua? è più continente vomito del termista è benissimo che cosa l'ho affittato? sì a posto siamo in borsa minore vicino da Steph vicino lo Sporting Club no no tranquillo 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 già era tutto sotto controllo 100 euro di danno ma sì se il rosario non mi viene a salutare è proprio stronzo un po' figlio dopo Ale non farei pazzie stai un po' più indietro torna Ale guarda non ci andate di prima subito